Visto dagli interventi dei ragazzi, dalle domande che hanno fatto, ma dalla loro sensibilità di ogni altra cosa, che di questo progetto si vedono già risultati molto evidenti. Ha creato in tutti sicuramente una maggiore sensibilità, una maggiore coscienza delle problematiche in cui questa realtà, questa società, e credo che quindi oggi noi abbiamo portato un contributo malevole alla legalità, nel senso che abbiamo seminato qualcosa che sta già giocando gli anni sotto i nostri occhi. È passato solo un anno, ma oggi ne abbiamo visto già una crescita. E come dicevo prima, vorrei essere qui fra 10-15 anni per vedere questo effetto dilagante proprio su tutti i testori sociali, quando questi ragazzi si trasformeranno in cittadini operativi, quando saranno inseriti nella realtà in un contesto lavorativo, professionale, sono sicuro che questo è un tempo ben speso e che questi e tanti progetti come questi sono la sana medicina per curare questa malattia che è risultato da questa società.